Io insegno da ormai 31 anni, dal 92, io per molti anni insegnavo con grande passione quella che era una professione, una professione in divenire che ha avuto anche delle tappe molto importanti. Oggi mi sento, infatti tutti i colleghi che fanno parte di questa aula che hanno fatto con me le lezioni ricorderanno che l'accento che metto in questo momento non è solo sulla professionalità, ma sul fatto che la comunicazione può essere una delle chiavi per arrestare un declino irreversibile delle nostre società. Cioè le nostre società stanno vivendo una crisi molto più profonda di quello che noi, ecco perché questo corso che parla di antropologia centra secondo me il problema fondamentale, non a caso si rifà alla dottrina di un Papa, non certo all'intuizione del primo venuto. Abitare il nostro tempo, questa frase, l'ecologia integrale sostanzialmente mette l'accento su un punto fondamentale, noi dobbiamo ricostruire la capacità di stare insieme. Non è un caso che noi veniamo tutti, questa è una cornice che mi sento di approfondire prima di entrare nel merito, veniamo da chiunque di noi a qualche anno, e tutti i presenti in questa aula ce l'hanno, ricorderà una società più vitale, una società più fiduciosa, una società più proattiva, non a caso era una società basata su organizzazioni in cui c'era fiducia e in cui le persone avevano fiducia, e parlo dei partiti politici, dei sindacati, delle associazioni, anche di una chiesa che aveva una presenza sul territorio ed una vitalità sicuramente superiore a quella attuale, nonostante la grandezza perlomeno degli ultimi tre papi che noi abbiamo avuto. e all'interno di questa organizzazione è molto importante mettere l'accento sul management, cioè sui dirigenti, perché i dirigenti sono coloro che danno un indirizzo fondamentale, che creano o al contrario riducono gli elementi di motivazione, e se oggi noi abbiamo questa convinzione così ridotta, i cittadini verso l'amministrazione, l'amministrazione verso se stessa nasce proprio da un deficit fortissimo sul piano manageriale, e io ve lo dico anche per esperienza, raramente in queste aule ci sono i dirigenti, ci sono i segretari generali dei comuni, ci sono i vertici delle amministrazioni, che sono convinti in una condizione, sono ormai immersi in una condizione di autoreferenza, per cui non si rendono conto che la reputazione non è semplicemente un fiorell'occhiello, una patina esterna, ma è il senso stesso del loro lavoro, non riusciremo mai, anche in una comunità semplice, qual è la comunità di base a cui tutti pensiamo? Una famiglia, in una famiglia ci può essere anche la persona che ha molta intelligenza, molto estro, molta capacità comunicativa, ma se non c'è un'organizzazione con dei ruoli, dei limiti, degli obiettivi, nessuna famiglia regge indipendentemente dalla capacità o dall'estro del single, figuriamoci un'organizzazione grande e complessa. Io ricordo spesso nelle mie lezioni che un grande giornalista e un grande lettore della cronaca come Indro Montanelli, nei suoi volumi sulla storia romana, ricorda che il declino dell'impero romano nacque quando finì la fiducia nell'essere cittadini, nell'avere quel riferimento anche alla sfera religiosa che nei romani era molto forte, a quegli dei che poi diventavano quasi della famiglia e non soltanto della società. E quindi in quello sfibrarsi costante della capacità relazionale si introdussero poi, si introdusse la possibilità delle sconfitte militari che furono dovute ad eserciti che da secoli stavano ai confini dell'impero, ma soltanto in quel momento riuscirono a fare breccia nella crisi politica. Questa è la cornice in cui mi muovo, quindi qualcosa che, poi naturalmente qualcuno può avere un'opinione diversa, alza un po' la posta in gioco, non parliamo di una professione, parliamo di una delle possibili chiavi di lettura per arrestare un declino che nasce dalla sfiducia e dalla demotivazione che hanno i funzionari pubblici, quindi coloro che rappresentano lo Stato e che è profondamente condivisa e ricambiata dai cittadini nei confronti dei funzionari pubblici, al punto tale che noi, quando ci troviamo di fronte a una prestazione positiva, neanche più ce ne accorgiamo e invece siamo sempre pronti a segnare col pennarello rosso e blu tutto ciò che non funziona, anche e soprattutto il deficit di relazioni. Oggi abbiamo un impianto normativo, potrei naturalmente stare tanto su questo tema, ma mi limito a due concetti, la possibilità dell'uso del digitale e la possibilità dell'uso della programmazione integrata che lo Stato italiano, pochissimi lo sanno, ha inserito nel 2021 nel proprio ordinamento, il cosiddetto PIAO, un piano integrato delle attività organizzative, che in pratica sembra essere una risposta formale legislativa a quello che diciamo oggi. Perché cosa dice il PIAO? Dice che le amministrazioni devono mettere insieme tutti i loro programmi in tema di performance, cioè di prestazione, di far bisogno del personale, di formazione, di parità di genere, di lavoro agile, di anticorruzione e di trasparenza, una visione d'insieme dell'attività amministrativa. Quindi in pratica significerebbe che le amministrazioni sono chiamate, poi c'è stato anche un documento delle linee guida della funzione pubblica per aiutare le amministrazioni a fare questa programmazione unificata, possono andare sulla strada della trasparenza, dell'accountability, della comunicazione a due vie, della citizen satisfaction, che dovrebbe essere la vera capacità di aprire le finestre del mondo pubblico e mettersi in contatto con il giudizio del mondo esterno. Però questo tipo di riforma, ve lo dico per un'esperienza a mio malgrado, purtroppo, i metri antennale, si blocca sempre su una sorta di difetto genetico dell'amministrazione italiana. L'amministrazione italiana considera alcune norme come cogenti, per esempio quando una norma dice che bisogna far approvare quell'atto da quell'ufficio diventa cogenti, dobbiamo fare un nuovo ufficio cogentissima, dobbiamo sentire, rilevare la customer satisfaction diventa un augurio. Io sono meridionale, posso permettermi di dire un po' come si dice che sia il semaforo rosso nel sud Italia. Un consiglio, non più una norma. Questo è il problema di fondo. Allora noi anche nel Piau abbiamo degli adempimenti, quindi la maggior parte delle amministrazioni hanno fatto il Piau, ma nello stesso tempo nessuno sa che cosa obiettivamente, che impegni abbiamo preso come amministrazione, né chi li deve giudicare. Non abbiamo l'idea dell'obiettivo, l'idea del risultato, che è l'unico che in un'impresa privata, ma anche in un negozio di scarpe, non c'è bisogno, anche il Conad sotto casa, non c'è bisogno di andare verso i macrosistemi, giustifica l'esistenza di un'azienda. Il risultato, la soddisfazione di un cliente che deve venire a comprare le scarpe e che va interrogato, aiutato, assecondato, perché il nostro obiettivo è che compri le nostre scarpe. Una volta in un convegno, ho citato questo a lezione, il magistrato Raffaele Cantone, che era presidente dell'ANAC, dell'autorità nazionale anticorruzione, quindi non certo un teorico, disse, gelando per un attimo la platea, che il funzionario pubblico non deve fare ciò che dicono le leggi. Allora, nel momento in cui si creò questo vuoto, lui si prese il tempo per dire la seconda parte della frase. Il funzionario pubblico deve fare ciò che le leggi non gli impediscono. Voi pensate alla rivoluzione culturale che c'è in questa frase, che io considererei un appello fondamentale. Cioè, noi dobbiamo fare quello che le leggi non ci impediscono di fare, altro che fuga dalla firma, per ottenere degli obiettivi di interesse pubblico. E allora veniamo al punto chiave di questo mio intervento, ma anche di questo centrato convegno che fa seguito ad un ottimo lavoro fatto da Emanuele Antonelli in sede di dissertazione di tesi. È che la comunicazione non esiste se non è riorganizzazione del back office. Comunicazione uguale riorganizzazione. Nessuno di noi, anche nella propria vita personale, può dire che sta cambiando il proprio approccio verso il mondo esterno, se non riorganizza la propria vita, le proprie abitudini, i propri rapporti con gli altri, le proprie scelte. Quindi dobbiamo entrare nel merito del nuovo ministro Zangrillo, ha detto con chiarezza che per lui l'amministrazione è l'insieme di tre concetti, merito, competenze, responsabilità. Se saprà dare seguito a questa visione, che è una classica visione da manager privato, merito, competenze e responsabilità, noi avremo, sicuramente vivremo anni di, poi in Italia i governi sono sempre precari per definizione purtroppo, però se darà seguito a questi obiettivi è proprio la vision che permetterà di fare questo salto di qualità. E il digitale è esattamente il modo per rendere questa riorganizzazione virtuosa, per portare verso la valutazione partecipativa che ha legge nella registrazione italiana da almeno 30 anni, dalla famosa legge 241 del 90 sulla trasparenza limitata, così come è chiamato. E il Piao, d'altra parte, se andate a leggere, ma le amministrazioni, io non so se i funzionari pubblici poi leggono le cose che applicano, si basa proprio su questa idea, va valutato attraverso l'impatto sugli utenti. E qual è il modo attraverso cui il digitale può favorire questo impatto sugli utenti? Emanuela prima parlava del tempo reale, è evidente che un semplice post su Facebook da solo crea una novità, che è il tempo reale. Soltanto il telefono o l'incontro allo sportello nel passato poteva garantire il tempo reale, quindi era comunque un'eccezione, perché riuscire a parlare con un funzionario o andarlo a fare la fila allo sportello comportava dei costi di tempo, anche psicologici. Oggi con un post questa possibilità è teoricamente garantita. Un post, ma anche dei reel, le stories, i tweet, tutto ciò che le varie piattaforme permettono, nel momento stesso in cui nasce il primo post finisce anche la distinzione tra giornalismo e comunicazione, perché è evidente che se scrivo un post non si ha più una chiara identificazione. Che sto facendo, informazione o comunicazione. Finalmente finisce quest'altro alibi che ha portato per anni comunicatori giornalisti a cercare più degli orticelli nella pubblica amministrazione, che è una vera funzione di interesse generale. I social annullano i confini anche rispetto al lavoro di front e il lavoro di back, perché è evidente che io per dare una risposta, se voi chiamate lo 060606, che è la linea di contatto del comune di Roma, troverete valenti e gentili funzionari che proveranno a darvi tutte le informazioni. Ma ogni volta che chiederete un'informazione che impegna un ufficio, dovranno a loro volta impegnare un ufficio. Ecco perché dico che la comunicazione è riconversione organizzativa, perché altrimenti la comunicazione diventa semplicemente un'attività che può essere svolta benissimo da un sito, così come se in un negozio di scarpe ci limitassimo alla vetrina e non ad un commesso che ci viene incontro e che vuole sapere non solo che misura portiamo, ma anche quali sono complessivamente le nostre esigenze, le nostre possibilità di spesa, persino l'umore che abbiamo quel giorno se ci va di spendere una certa cifra oppure no. Attraverso il post e i social il cittadino diventa valutatore e informatore, perché il cittadino ci dice, ad esempio, se è vero che sono stati fatti certi lavori pubblici che l'amministrazione ha annunciato, come stiamo messi con i cinghiali in giro per la città. Ci mette in condizione di sapere se ci sono stati dei danni per un'alluvione o per un sisma o per qualsiasi altro elemento di cui magari noi avremmo un'informazione alterata dalla mancanza di testimonianze dirette. Quindi il cittadino diventa il primo dei nostri cronisti se sappiamo ascoltarlo e ci dà dei feedback in tempo reale. Ecco perché. Posso chiederti una gentilezza? Ti chiedo veramente scusa. Ho ricevuto un'informazione relativamente ad un'urgenza da parte della dottoressa Roversi, credo, vero? Sì, sì, concludo. Ecco, no, volevo capire eventualmente come possiamo fare, se accogli... No, sicuramente concludo in un minuto. Era la fine del mio intervento e do subito la dottoressa. No, no, non volevo che tu concludessi, ma che in realtà dividessi il tuo intervento in due parti. Prima e dopo la... No, no, non concludere, perché è interessantissimo quello che dici. Prima e dopo la dottoressa Roversi. Facciamolo terminare, è sempre interessante. Allora, no, l'ultimo punto che volevo mettere in evidenza è che la possibilità di riformare la legge sulla comunicazione vuol dire mettere in campo queste competenze come centrali per l'amministrazione, mentre oggi sono marginali, sono legati agli URP e gli uffici stampa degli anni 90 e quindi di fatto finiscono per non dare uno sbocco neanche a chi, come per esempio i formati di questo corso, si stanno attrezzando a gestire la comunicazione come una funzione fortemente umanistica, che è poi il concetto da cui siamo partiti e quello con cui concludo il mio intervento. Il problema è che la pubblica amministrazione non è il terzo settore, il problema è questo, cioè la motivazione che si riesce a ricostruire quando si hanno questi grandi obiettivi, queste grandi capacità organizzative, sembra veramente non avere limiti. Voi avete notato la dilatazione del progetto, i suoi obiettivi, le sue realizzazioni e ognuno di noi probabilmente ha esperienze simili che toccano le strutture private o le strutture del terzo settore, quindi la comunicazione privata o associativa. Nell'ambito pubblico noi abbiamo una tendenza, come dicevo prima, a sterilizzare queste spinte, quindi noi possiamo anche fare una campagna per il cibo organizzata da un ministero o dalla presidenza del Consiglio, però alla fine si finisce per farla inaridire dentro adempimenti. La cultura dell'adempimento è una cultura dell'alibi, una cultura del chiedo un parere a, della cultura del non sono sicuro se non me lo scrivi, è una cultura perché noi parliamo di trasparenza e costruiamo un ufficio con una segreteria, con un enorme mole di adempimenti che vanno svolti in una pianificazione cartacea, facciamo il responsabile della performance, il responsabile della privacy, il responsabile della transizione digitale, tutti i nuovi uffici. E sto parlando di quattro concetti fondamentali per la vita delle persone, quindi la prestazione e la valutabilità, la trasparenza e l'anticorruzione, la privacy o la transizione digitale e finiamo. Poi lo Stato dice tante volte a se stesso come vanno le cose, perché ad esempio, vi faccio un esempio banale, se andate sul sito della funzione pubblica, sul portale foia.gov.it, che vuol dire Freud Freedom of Information Act italiano, se viene chiamato così la legge sulla trasparenza, troverete che propongono le amministrazioni di fare un test dell'interesse pubblico, cioè a cosa serve un piano della trasparenza? Vediamo se serve al dibattito pubblico, alla partecipazione, alla valorizzazione del controllo. Dopodiché la commissione per la performance che il ministero ha istituito nel 2021 dice che le cose non sono andate bene, ad esempio nella sua relazione dice in modo molto chiaro che di scarsa qualità degli obiettivi degli indicatori, limitata integrazione con la programmazione economico-finanziaria, limitato coinvolgimento dei decissori chiave, cioè lo Stato quando si va a guardare allo specchio tira fuori queste valutazioni e quindi è difficile poi poter proporre un bilancio così evolutivo e anche convincente come quello di Sara Roversi. Sara Roversi è convincente perché è convinta, perché le cose che fa è riuscita in qualche modo a vederle realizzate attraverso un'attività che ha poco a che fare con gli adempimenti. Pia Social è una struttura, quando inviteremo Francesco di Costanzo, ve ne accorgerete dalla sua viva voce, che mette insieme centinaia di persone che lavorano nelle amministrazioni e che nelle amministrazioni sono spesso impelagate in lacci e lacciuoli e invece nella loro vita associativa sono libere di esprimere idee, di esprimere condivisione, di aiutarsi vicendevolmente. Sono persone che durante il Covid non avevano limiti di orario, c'era un senso della missione pubblica per cui non esisteva domenica, sabato, primo maggio o otto marzo, ma bisognava dare al cittadino le informazioni. Ecco, queste associazioni, queste realtà dimostrano la vitalità che c'è ancora nel nostro paese, le competenze, la voglia di fare squadra, di fare organizzazione senza far prevalere altre logiche. Nell'ambito pubblico invece c'è purtroppo una cultura dell'adempimento basata su una prevalenza della visione legale e legalistica. Chiunque sta in un'amministrazione sa che gli uffici legali hanno un potere spaventoso, un potere di vita o di morte su qualsiasi atto, perché questa presunzione di colpevolezza che oltretutto perseguita il dipendente pubblico porta a delle norme completamente contraddittorie con qualsiasi performance, perché voi ditemi, perché qua io sono costretto a entrare nel merito, mi dispiace se magari possono sembrare discorsi tecnici. Se io sono un manager e trovo un fornitore valido, secondo voi è normale che dopo un anno per i criteri della rotazione io debba cambiarlo? Qualcuno sa cosa significa fare un affidamento che oltretutto se è diretto comporta determinati rischi e quindi nessuno manco lo vuole fare diretto e quindi si fanno gli inviti oppure addirittura le gare europee, quindi dopo io magari ci metto tre mesi, quattro mesi, sei mesi per un fornitore e dopo sei mesi devo cambiarlo, perché si presume che io abbia un interesse, quindi posso capire non dare un affidamento per 30 anni, ma non per uno. Secondo voi è normale che il decreto cosiddetto dignità nel 2016 abbia reso i contratti a tempo determinato limitati a 12 mesi, in modo tale che io metto 12 mesi a selezionare una persona e 12 mesi dopo la devo mandare a casa, salutarla e stringergli la mano, perché non posso tenerla neanche 24 mesi, neanche 36. Le amministrazioni private o le associazioni hanno questi problemi? Io capisco anche lì, l'intuito persone è pericoloso perché può creare un meccanismo di arbitrio e di abusi, ma noi ci rendiamo conto che con questa pretesa, con questa presunzione di colpevolezza, diciamo la verità, al contrario della presunzione di innocenza, rispetto a qualunque atto del manager pubblico, lo abbiamo reso una persona completamente sepolta dagli alibi, perché a qualsiasi motivazione, adesso io dismetto i panni del docente, dell'appassionato di questi temi, del comunicatore, mi metto a fare il manager, quello che gestisce un affidamento, io vi dico 10 motivi per cui le cose non le voglio fare, perché se devo fare una cosa e gli uffici non mi danno il tempo di farla, io creo un meccanismo di erogazione di competenze, che vengono pagate come competenze maturate, quindi mi espongo ad un rischio, perché vi è il terrore della Corte dei Conti. Allora, noi dobbiamo fare pace col cervello in questo paese, io credo che questo eccesso di burocrazia adempitiva, di resistenza diventi un alibi per qualunque realizzazione, quindi questi nostri discorsi si arenano dentro questa situazione, che è la peggiore nella vita, quando tutti hanno torto e tutti hanno ragione. Non si può individuare un responsabile, perché tutti hanno le loro responsabilità. Chiunque vuole realizzare deve correre dei rischi, deve accettare di forzare dei tempi e delle procedure, col rischio che qualcuno un domani, invece di dargli una medaglia, lo metta sul banco degli imputati. Questa è la situazione in cui noi ci muoviamo, io mi sento di dirlo proprio rispondendo alla domanda di Cinzia relativa al confronto con una struttura associativa, quindi una struttura che fa parte della metafora, il volontariato che diventa poi struttura manageriale, che raggiunge degli obiettivi straordinari, che lo Stato potrebbe raggiungere tranquillamente, perché ha 3 milioni di dipendenti, tantissime competenze e tantissime capacità, ma che molto spesso è costretto a gettare la spugna per delle leggi che esso stesso si dà. Tra l'altro è evidente che la situazione è peggiorata quando l'Italia è entrata nella spirale della caccia alle streghe connessa all'inchiesta giudiziaria dei primi anni 90, da qui non siamo più riusciti ad uscire con questa idea, perché ogni cosa è tentativo di bloccare eventuali abusi con il risultato di paralizzare le attività e di non impedire assolutamente gli abusi che chiaramente aumentano in questo clima, perché si creano modi per aggirarli. Non a caso voi conoscete dei campioni della pubblica amministrazione stimati dalla folla come può essere invece un responsabile, non so, un Roberto Saviano, ma anche una Sara Roversi che non sarà famosa, ma sicuramente fa delle cose che meriterebbero la fama, lo conoscete? Io no, io conosco solo magistrati. Gli unici dipendenti pubblici che fanno gli eroi all'interno anche del circuito mediatico sono i magistrati, qualche volta qualche virologo nel corso del 2000, infatti Checco Zalone si è divertito su questo, ma a parte queste star della pubblica accusa io non ne trovo. Avete mai trovato un capo dipartimento che può andare con coraggio a dire quello che ha fatto? Oppure un dirigente? Non lo possono fare, in certi casi lo possono fare dei sindaci perché sono dei politici che appena arrivano riescono a indirizzare le loro azioni e non a caso i comuni sono le uniche oasi di possibile efficienza dove un sindaco può muoversi un po' meglio rispetto ad una grande struttura statale. Questi sono i problemi, ma li conoscono tutti perché sono dovuti al potere che viene dato che è un potere sempre vincolato a qualsiasi manager a cui poi si rimprovera di essere conservatore e burocrate. I campi sempre più diffusi, dobbiamo creare una cultura, una scuola di pensiero, sarebbe un sogno nel cassetto se proprio uno vuole parlare pure di utopie, sarebbe quella che magari da un'università come questa che del resto è un unicum, evidente per motivi che non sto a spiegare, si creasse una scuola di pensiero sulla cultura organizzativa pubblica che in qualche modo nel suo piccolo semina. Perché non è che, chiaro che se poi domani io divento ministro, il dottor Lenzi diventa ministro è più facile, però già che non è una cosa probabilissima allora dovremmo fare una scuola di pensiero, una qualche cosa che rimane, una sorta di accademia che promuove, coinvolge, magari a un prossimo evento del genere si cerca di invitare un vertice del ministero, qualcuno a cui ci si confronta su questo modo diverso di lavorare, di gestire il PIAO, di gestire la performance, di gestire la comunicazione, di gestire la trasparenza. Ecco, questo potrebbe essere un modo per contribuire veramente al nostro paese, al bene pubblico, valorizzando strutture come PIA Social, come il Future Food Institute, che sono chiaramente delle eccellenze, quindi diventando partner stabili di strutture private o associative che fanno quello che diciamo, lo realizzano, mentre l'università non deve fare, deve pensare, insomma, per sua stessa natura. Questo potremmo provare a fare, se io dovessi esprimere un'utopia o comunque un progetto, sarebbe questo.